Ma quando passa sto treno? Toressa c'era solo questa strada Dottoressa io... Ah te l'ho detto che il mare quest'estate a metapunto era bellissimo Figo, non sono contento E il Centro America com'era? Bellissimo, con un lavoro davvero Bello, bello Che ci hai fatto il Centro America? Una serie di... Comunque... Le posso dire che... Questa estate Alla festa della Bruna Nel suo ufficio Dottoressa io Quando ero lì A aiutare tutti quei terremutati Quando ero in missione Vedere la loro faccia Che avevano perso tutto Quello è stato un momento davvero indimenticabile Ma vuole sapere una cosa Non c'è stato un momento più bello Del momento che abbiamo passato insieme Quando abbiamo firmato gli avvisi di garanzia per Calogiri Di Lombardi, di Bruno Quello è stato davvero un momento bellissimo È stato bellissimo anche per me Calogiri Sì Io... Io... Quello che è successo nel mio ufficio Quest'estate Il giorno della Bruna È stato uno sbaglio E non mi riferisco Agli avvisi di garanzia Calogiri Metti in moto E andiamo